Una maggiore attenzione del rispetto delle normative per quanto riguarda attività in mare e in spiaggia. E' questo il sentimento che emerge dai dati di Mare Sicuro 2021. Il report dell'attività stagionale della Guardia Costiera Marchigiana per quanto riguarda attività di soccorso e salvaguarda di bagnanti e ambiente marino è stato presentato oggi presso la Capitaneria di Porto di Pesaro alla presenza dei comandi delle direzioni marittime di Ancona, San Benedetto del Tronto e la stessa Pesaro. Numeri che raccontano di 16 unità soccorse in mare in questa estate di cui quasi la metà per condizioni meteo avverse, 88 le persone salvate in condizioni di emergenza, 7 decessi constatati, 15.000 attività di controllo in attività di polizia marittima ma appena 204 verbali amministrativi, ovvero sensibilmente meno rispetto al biegno precedente in termini di violazioni al codice della navigazione di ordinanze balneari o in materia di riporto. Sensibilmente più alto invece il dato delle notizie di reato, 27 contro le 11 e 12 degli anni precedenti, la maggior parte delle quali relative a illeciti demaniali. Dati sostanzialmente positivi nel senso che sono in diminuzione tutte quelle fattispecie di comportamenti irrispettosi oltre che contrari alle norme e quindi questo fa pensare che l'attività di prevenzione che è stata posta in essere sta continuando a dare risultati positivi. Ovviamente quello che dispiace sottolineare è che anche quest'anno c'è stato un certo numero di decessi avvenuti in mare e sulle spiagge, molto pochi legati al fattore mare, cioè pochi annegati veri e propri, tanto invece persone che hanno avuto un malore e in conseguenza del quale poi sono decedute. Però io personalmente considero questi dati delle sconfitte, non personali o del corpo ovviamente, ma sono dati che fanno capire come possa e debba essere fatto qualcosa di più sensibilizzando maggiormente, che so io, gli stabilimenti balneari affinché si dotino di defibrillatori, lavorando di concerto con le altre amministrazioni deputate a garantire la sicurezza sotto il profilo proprio del soccorso, della salute, ecco il soccorso tecnico, non quello nostro che viene fatto con la motovedetta, chi è in procinto di perdersi per fattori legati alla balneazione o alla navigazione. Ma sono convinto che si possa e si debba fare di più.